Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è sabato 3 febbraio 2024, abbiamo pronti i giornali sulla nostra scrivania, sono caldi caldi, freschi di stampa e quindi sono pronti per far emergere tutte le notizie del giorno, vediamo appunto quali saranno, ce ne sono come sempre diverse. Intanto noi passiamo per l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Eccolo, è San Biagio. San Biagio di Sebaste in Armenia, visse nel III secolo, medico e vescovo. Associò la cura del corpo a quella dell'anima. Erano i tempi della persecuzione di Diocleziano. Biagio, che viveva in una grotta, fu scoperto dai cacciatori di belve per l'anfiteatro. Condotto in città, in catene, fu salutato dalla folla, che ben conosceva la santità del vescovo. Ma tra la folla c'era anche una donna, il cui figlio era moribondo perché aveva inghiottito una spina di pesce che gli si era conficcata in gola. Ebbene, la donna chiese al santo di pregare per il suo figlio. Il santo alzò gli occhi al cielo, pronunciò una preghiera e miracolosamente il bambino tornò a respirare e quindi si salvò. Ed è per questo che Biagio è considerato il protettore di coloro che sono ammalati di gola. Per il mal di gola è un santo da invocare. Il mal di gola, come sappiamo, è un male di stagione, quindi in questo momento è molto molto attuale. Ciò detto, passiamo alle previsioni del tempo. Ecco il meteo di oggi, tempo stabile, soleggiato in tutta la regione Marche. Ci sono gelate al mattino nelle valli interne, le massime primaverili saranno superiori ai 15 gradi, ma ancora fa freddo. Vediamo che a parte le punte la media è da 1 grado la minima e 10 gradi la massima, quindi è ancora una giornata piuttosto rigida. Comincerà a salire un po' la temperatura sul mezzodì, quindi nella parte centrale della giornata. I venti sulle coste espirano da ovest-nord-ovest, nell'interno da sud-ovest. Il mare è leggermente mosso, il sole sorge alle 7.24 e tramonta alle 17.17. Ed ora vediamo le aperture dei giornali. Vediamo che sul Corriere Adriatico si parla di un problema, un problema di stagione. Alcuni farmaci, anche a Fano, sono introvabili nelle farmacie. Difficoltà anche per i farmaci pediatrici. Questo è veramente grave. Il farmacista Pierini, Giovanni Pierini, segnala il disagio in città, non solo per il Creon di Fedez, quel farmaco che è fatto di enzimi per il pancreas, che non si trova a livello nazionale. Va bene, c'è anche carenza per quanto riguarda i farmaci per la cura della pressione, per le malattie pediatriche. Insomma, la situazione comincia a essere veramente problematica. Mi dispiace, di questo farmaco siamo momentaneamente sprovvisti. Proviamo a ordinarlo con la speranza che ce lo consegnino al più presto. La preghiamo di ritornare. Questa è una frase che spesso i farmacisti sono costretti a pronunciare di fronte a coloro che presentano le ricette. Insomma, è una carenza di carattere produttivo, ma c'è anche un problema di carattere speculativo. E lo evidenzia i fatti Giovanni Pierini in questo articolo, dicendo come alcuni farmaci che in Italia sono assistiti dal sistema sanitario nazionale e quindi hanno un prezzo ridotto, vengono incettati da alcune società e poi rivenduti in quei paesi dove il prezzo è un prezzo pieno. E quindi c'è questa differenza di guadagno che loro, ovviamente, assumano. E questo fa sì che nel territorio nazionale si privi la quantità necessaria di farmaci che servono appunto per curare delle malattie piuttosto comuni. Vediamo gli altri articoli. Monsignor Lucarelli era attento ai giovani. Un articolo questo che riguarda i funerali del presule, il Vescovo di Rieti, originario di Fano, che si sono celebrati nella mattinata di ieri in Duomo. Le esequie del Vescovo di Rieti, dall'Usaca il ricordo del presule, suo ex allievo. Ebbene, ovviamente, il Monsignor Lucarelli è stato ricordato con la omelia del Vescovo Andreozzi, presente appunto per celebrare il rito in Duomo ieri a Fano, ma Don Francesco Pierpaoli, che è stato un suo allievo, mentre Monsignor Lucarelli era direttore del seminario regionale che era a Fano, ricorda e ha letto anche una lettera di un altro suo allievo, che è il Vescovo appunto in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo. Ebbene, di Monsignor Lucarelli si ricorda soprattutto la predilizione verso i giovani, considerati come la linfa della Chiesa, una predilezione che lui aveva così manifestato sia durante la sua direzione del seminario, sia durante i primi tempi del suo sacerdote, quando andava così ad assistere in modo particolare i gruppi giovanili, a Saltara negli altri centri dell'entroterra, e poi come direttore del seminario e infine come Vescovo di Rieti. Un grande rammarico, un grande dolore per la scomparsa di questo presule che è nato a Fano e qui ha fatto molte, molte cose prima di andare a Rieti. Ed ora purtroppo dobbiamo annunciare anche un'altra brutta notizia che ci ha un po' sconvolti anche personalmente. Ebbene, è deceduto improvvisamente Guido Ugolini. Guido Ugolini, esperto d'arte, storico d'arte, direttore del Museo Diocesano di Fano, ed era anche un intenditore per quanto riguarda l'arte, di cui riusciva a cogliere tutti gli aspetti segreti, e riusciva a interpretare i quadri non solo nel suo valore estetico, non solo nella sua bellezza, ma anche nel loro significato che spesso chi li guarda non riesce a cogliere. È deceduto ieri all'ospedale di Fano Guido Ugolini, il noto critico e storico dell'arte, direttore del Museo Diocesano, del quale, su incarico del Vescovo Emerito, Armando Trasarti, aveva curato anche l'allestimento. È deceduto purtroppo per un arresto cardiaco in seguito ad una malattia che sembrava banale, un'influenza, che lo aveva accolto dal mese di dicembre. Era nato a Urbino e aveva 84 anni. Dopo essersi laureato, era diventato anche un collaboratore con la sopraintendenza, ha fatto molte opere, ha scritto diversi libri. L'ultimo, Il mio Piero, evidenziava la sua predilezione per Piero della Francesca, in modo particolare per la Pala di Brera, che dovrebbe tornare in Urbino. Ne aveva colto tutti i significati, soprattutto quello che il pittore aveva voluto nascondere in quelle enigmatiche figure che popolano il quadro che era nel mausoleo dei duchi, appunto nella città ducale. I suoi funerali, i funerali di Guido, si terranno lunedì prossimo alle ore 15 nella chiesa della Santa Famiglia a Fano II. Ed ora, parliamo di una iniziativa così eclatante, roboante, possiamo dire, ma molto molto puntuale per quanto riguarda il suo scopo, il suo obiettivo, che è quello appunto di fare del bene. Giro d'Europa in bicicletta per finanziare l'inclusione. Ebbene, questa è un'impresa che si appresta a fare, partendo proprio da questa mattina, Daniele Grassetti, che parte a sostegno dei progetti di ASE e dell'Associazione dei Genitori con Figli Disabili per l'Inclusione, pedala per finanziare questi progetti inclusivi. Ebbene, partirà proprio dall'arco di Augusto a Fano e poi andrà in tanti altri paesi, la Grecia, i paesi balcanici, il Nord Europa, ebbene, raccoglierà fondi per finanziare attività riguardanti, in modo particolare, la salute mentale. Il ricavato servirà a sostenere l'impegno inclusivo svolto dalle associazioni ASI e AGFI che riescono a realizzare queste opere a favore di ragazzi e adulti con difficoltà fisiche e anche psichiche, persone che necessitano di educatori, alle quali occorrono progetti mirati e che sono spesso molto, molto costosi. Ecco perché servono questi soldi. Ebbene, è una bella iniziativa. E coloro che vogliono accompagnare Grassetti, almeno fino a Pesaro, in bicicletta, questa mattina possono accompagnarlo. Si inizia alle 10, appunto, sotto l'arco di Augusto. Vediamo ancora un'altra notizia. Ieri è stato un po' così presentato il nuovo ponte della pista ciclabile Metaurense che dovrà così essere realizzata con soldi, sono 6 milioni e mezzo, resi a disposizione dalla Regione Marche. È stato fatto un sopralluogo ieri, proprio nel luogo dove verrà costruito questo ponte ciclabile che è un po' l'emblema, il portabandiera di tutta l'infrastruttura. Sopralluogo ieri nell'area in cui verrà edificato questo ponte d'acciaio, elemento rappresentativo della ciclovia del Metauro. Andremo ad abbattere una barriera storica, ha commentato l'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli. Con lui era anche il sindaco Massimo Seri e alcuni dirigenti della Regione. Un'opera che unisce due quartieri, ma anche una visione diversa delle infrastrutture. Sappiamo come alla fine il Comune di Fano ha ceduto al progetto della Regione Marche, nonostante che aveva in mente un'altra alternativa che si dilungava vicino ai binari della ferrovia Fano-Urbino, mentre ora invece si va un po' più lontano e ci si innesta nei campi della vallata del Metauro. Ed ora parliamo invece del Carnevale. Il nostro Bologna è sempre presente in questi giorni sulla scrivania della rassegna stampa, perché oggi si incentivano le iniziative del Carnevale. Domani è la seconda grande sfilata dei carri in Viale Gramsci e oggi ci sono diverse e diverse iniziative. Quella più importante ovviamente a testimonianza del connubio tra Carnevale e teatro è il debutto della cenerentola di Gioacchino Rossini realizzata dal sistema lirico delle Marche. Una rete lirica che coinvolge anche i teatri di Fermo e di Ascoli Piceno, oltre quello di Fano, ma stasera l'opera debuterà proprio nel nostro teatro, il Teatro di Fano. Intanto nella mattinata alle 11 si svolgerà la seconda edizione del torneo carnevalesco di Touch Rugby organizzato da Fano Rugby e Touch Rugby Scottadette. Alla stessa ora nella galleria del Fano Center sarà possibile ascoltare la musica arabita che terrà un concerto a conclusione delle iniziative del Centenario. Mentre oggi pomeriggio alle ore 16 il Centro Storico tornerà il pomeriggio dei colori con la sfilata dei piccoli carri proprio in corso Matteotti. Una volta il Carnevale di Fano si svolgeva tutto in il Centro Storico, poi dopo essere cresciuto talmente che il Centro Storico non lo poteva più contenere, ovviamente è passato all'esterno in Viale Gramsci. Ma a ricordo di quei tempi l'ente carnevalesca realizzando una buona cosa ha riproposto anche il Carnevale in Centro Storico. Ci sarà ovviamente il Getto e poi un concerto in piazza 20 Settembre con gli Zebra 3. Ma c'è anche un'altra iniziativa alle 16. Alla Circolo Tennis si svolgerà il torneo di Carnevale con doppio misto lei-lui e lui-lei. Quindi anche il tennis in questi giorni poi è particolarmente al Rivalta. E intanto, intanto, ieri è stato presentato il nuovo libro sulle Carnevale di Fano dedicato ai manifesti, realizzato da Silvano Clappis e Raffaella Manna. Era presente anche il critico Battistini che ha un po' raccontato, che ha un po' appunto valorizzato queste opere d'arte perché sono delle vere e proprie opere d'arte i manifesti che promuovono il Carnevale di Fano. Vediamo ora le altre notizie. Pergola, protagonista alla BIT, turisti da prendere per la gola. Ovviamente il tartufo fa da padrone dalla città dei bronzi. parte il tour del tartufo dell'Aci con la guida di Carrabs, di Gianluca Carrabs, che racconterà le grandi eccellenze marchigiane. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Il nuovo ponte Garibaldi doveva essere illustrato il progetto. In realtà invece c'è stato solo un incontro con i tecnici, solo dettagli, il vertice che si è svolto ieri in Regione. Il Sindaco Manca, il Sindaco Livetti non è intervenuto perché era una questione di tecnici e la sua presenza sarebbe stata ininfluente. Il MIT aveva annunciato la presentazione del progetto, invece niente, ancora siamo nelle fasi preliminari. E poi vediamo invece una truffa. L'acquisto del trattore è un tranello. Due amici vengono beffati sul web. Avevano individuato una occasione promozionale importante per l'acquisto di un trattore a 3.400 euro. Avevano pagato con il loro conto correnti, ma alla fine la consegna del mezzo non è mai avvenuto. E quindi hanno avvertito la polizia postale che ora ha svolto delle indagini per individuare il truffatore. Per quanto riguarda Pesaro, invece, vediamo come si parli di lavori pubblici, cantieri e corsa ad ostacoli, le sorprese del sottosuolo fanno scattare le bonifiche. In realtà più che di lavori pubblici si parla di lavori privati, perché certe strutture che hanno avuto magari dei depositi di carburante oppure delle situazioni un po' precarie per quanto riguarda l'impatto ambientale ora devono essere sottoposte a bonifica. C'è una serie di operazioni di bonifica in corso nel territorio del comune di Pesaro in modo particolare nella zona dove operavano i consorzi agrari. E' il caso, per esempio, dell'area dell'ex consorzio agrario in zona Porta, dove da tempo si è insediato il cantiere della società Nova Portum che comprende anche la Renco per realizzare il complesso di Calata 52 e poi altre zone dove si sta facendo la bonifica dei terreni. E per quanto riguarda la bonifica si dovrebbe rendere necessaria anche questa operazione in diverse zone dove è urgente intervenire. E questo lo segnala l'osservatorio ONA che lo segnala al comune e alla regione sono siti veramente pericolosi. Per esempio, ce n'è uno a Monte Ciccardo dove ci sono quantitativi di materiale cancerogeno abbandonato in una zona privata materiale che sta cadendo a pezzi. A Pesaro, nella zona dell'Ipercop, la situazione di pericolo è stata denunciata dal 2011 da un curatore fallimentare, ma fino adesso nulla è stato fatto. E poi ancora a rischio c'è anche un edificio nell'area produttiva di Villa Fastigi 25.000 metri quadri e anche qui una zona gestita da un curatore fallimentare. E poi ancora a Villa San Martino tra via Brecci e via Mercadante a Muraglia e in altre zone dunque l'amianto è uno dei problemi che a Pesaro deve essere risolto. Mentre per quanto riguarda Fano non sembra che la situazione sia stata ormai messa in realizzato da tempo perché il Comune ha fatto un piano veramente molto esteso specialmente per quanto riguarda le scuole ma anche le altre strutture di bonifica. Ricordiamo soprattutto il palazzetto dello sport Salvatore Allende. Stazione del treno impacchettata, riqualificazione per i passeggeri, la nuova sala d'aspetto con bagni pubblici sarà pronta e fruibile prima della stagione turistica e tutto quanto si inquadra nella qualità di Pesaro capitale nazionale della cultura. E poi anche a Pesaro si vivacizza la problematica per le zone 30. Zone 30 non un modello da seguire, meglio isole e meno spazi per le auto. È la proposta del Gruppo Zero che mira quartieri connessi da una fita rete di percorsi ciclopedonali. Ebbene, la soluzione radicale per ridurre la velocità delle auto è quella di ridurre il numero delle auto che percorrono appunto le vie urbane. Questa ovviamente è la proposta del Gruppo Zero. Comunque occorre mettere questi segnali di 30 km orari nelle vie problematiche e non estenderle in tutto il contesto urbano. Vediamo anche un altro articolo che riguarda quello che è avvenuto nel pronto soccorso nel 2021 quando un giovane un po' alticcio aveva dato in escandescenze veramente percuotendo tutti coloro che gli venivano a tiro. un infermiere percosso ora chiede 70.000 euro. Ebbene, aveva sferrato un pugno a una infermiera poi a un altro infermiere che cadendo a terra si era fratturato una spalla. Altri colleghi compreso l'allora direttore e il dottore Umberto Gnudi erano intervenuti per aiutarlo. Il ragazzo comunque aveva dato in escandescenze insultando graffiando e sputando addosso anche all'infermiera. Ora si rende disponibile a fare i servizi utili ma ovviamente forse qualcuno vuole di più e ovviamente l'infermiere vuole essere risarcito. Vediamo anche la pagina di Urbino sul Corriere Adriatico Menù bilanciato e nutriente la salute inizia dalla tavola. Urbino con altri 24 comuni aderisce al programma scolastico promosso dall'azienda sanitaria territoriale. Chiudiamo ora il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino dove l'apertura è dedicata invece al ponte ciclo pedonale che dovrà unire i quartieri di Vallato e Sant'Orso. Il ponte ciclo pedonale ora è realtà. Oltre 2 milioni per la maxistruttura dal parco urbano dell'aeroporto volerà sopra via Papiria il canale Albani e la superstrada per arrivare a Sant'Orso. Ebbene la ciclovia del Metauro sarà collegata alla ciclovia Adriatica per un percorso di molti molti chilometri che dovrebbe così poi proseguire su fino ai primi avamposti appenninici. I lavori partiranno tra qualche settimana il ponte ciclo pedonale che dal parco urbano dell'aeroporto volerà sopra via Papiria per approdare nel quartiere di Sant'Orso. Ieri c'è stato un sopralluogo dell'assessore Baldelli accompagnato dai tecnici regionali dai progettisti per mettere a punto gli ultimi dettagli di questa opera. E poi ieri c'è stata la prima presentazione del programma della prossima edizione del Festival Passaggi a suon di intelligenza artificiale. Bene, l'intelligenza artificiale è l'argomento del giorno e il Festival Passaggi un festival che guarda bene anche all'attualità non poteva non inserire nel proprio programma questo argomento. Passaggi Festival tra l'errore e l'artificio dal 26 al 30 giugno si svolgerà la dodicesima edizione di questa iniziativa che in breve è assunto una rilevanza nazionale e poi insomma si inserisce anche un po' nel quadro di tutta la programmazione di Pesaro capitale nazionale della cultura e proprio al tema dell'intelligenza artificiale sarà dedicato il discorso notturno del Festival. Per quanto riguarda la politica c'è un incentivo da parte di Cora Fattori di Più Europa una delle candidate al ruolo del sindaco del centro-sinistra e dice avanti tutta con le primarie mi chiedo perché i progressisti siano tanto spaventati dalle consultazioni degli elettori afferma la candidata attualmente i candidati sindaci sono quattro ricordiamo quelli del centro-sinistra oltre a Fattori si sono messi in gioco Samuele Mascarin Etienne Lucarelli e Cristian Fanesi che però recentemente si è detto disponibile a rinunciare alle primarie insomma questa questione delle primarie tiene in scacco tutto il centro-sinistra insomma costituisce un grosso elemento di divisione dai cosiddetti progressisti e poi a fondo pagina abbiamo invece un'intervista a Davide Rossi Davide Rossi è stato assessore alla provincia è stato assessore al comune di Fano ha gestito a suo tempo la cultura ebbene centro-destra e centro-sinistra piegati da lotte intestine evidenzia e quindi pone ancora di più il coltello e lo rigira nella ferita giriamo ancora la pagina sul resto del Carlino da lunedì andranno via le macerie dell'ex anfiteatro si riprenderanno i lavori si parla dell'anfiteatro Rastat in Sassonia l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori assicura che dalla prossima settimana ripartirà il cantiere fermo dal mese di dicembre e intanto Stacciola riabbraccia la storica statua sacra a San Costanzo si tratta di una preziosa opera linea risalente al 1500 e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì prossimo grazie per l'ascolto vi auguro un buon carnevale a risentirci grazie a tutti